La sua pennellata indagatrice, il suo colore realistico, disteso per velature trasparenti, i suoi impianti compositivi, costruiscono aperture sui luoghi della quotidianità dove la gioia è spesso mista al dolore e alla malinconia. Particolarmente sensibile alla figurazione e all'ambientazione fiamminga, inserisce nello spazio iconico i momenti gioiosi e difficili del germoglio vitale. Vicina all'osciuti nelle aperture spaziali, recupera dal passato quell'armonia cromatica e quell'equilibrio compositivo tanto cari al sentimento di bellezza dell'umanità nuova. È un passo tratto dalla motivazione ispirata dalla sapiente creatività di Elisa Anfuso, giovane catanese vincitrice del quarto premio internazionale di pittura Giuseppe Sciuti. La premiazione si terrà al Palazzo Municipale di Zafferana e Etnia, domani alle 19. Con la supervisione del direttore artistico, Paolo Gian Siracusa, direttore Accademia di Belle Arti di Siracusa, la giuria, presieduta dall'assessora Graziella Torrisi, formata da Giuseppe Cristaudo, Mario Pafumi, Deborah Vasta, Manuela Privitera, Carmela Garro, Rocco Froyo e Stefano Puglisi, assegnerà la menzione d'onore. Siamo felici quest'anno di gratificare un'eccellente artista siciliana di fama internazionale, dichiara la Torrisi. Punto. Assegneremo poi tre riconoscimenti. Carriera al maestro Corrado Iozzia, pittoscultore, presidente dell'AIS, Giuseppe Sciuti, giovani all'artista Francesco Caristia, abile allievo dell'Accademia di Belle Arti di Catania, e memoria, al pittore Mario Scalia. Lo stile narrante che coniuga per traslati la poetica del reale agli insegnamenti della favola, distingue le opere della Anfuso. Ogni tela è un frammento della mia biografia, tutte insieme sono uno straordinario album di ricordi. Attraverso di esse ho il coraggio di guardare dentro il mio buco nero senza farmene risucchiare, le mie tele sono catini che talvolta diventano scudi, dichiara. Come si dipana il suo iter creativo? Accade sempre come un'urgenza, un fatto inevitabile? Delle volte l'opera se ne sta già lì, sotto a un pensiero, vedo i toni, che avrà la tavolozza, i dettagli dell'incarnato, il senso farsi strada tra le linee del disegno. Altre volte devo scendere proprio giù, e scavare, scavare? Alcune opere sono come fiumi sotterranei, ti obbligano a seguirli nel loro percorso spesso tortuoso, prima di trovare il punto giusto in cui vengono alla luce con tutta la loro forza. Faccio molti scatti in studio, la fotografia è una fedele compagna nell'inseguire la visione, mi permette di fissarla, ribaltarla persino, di lasciare che per prima si manifesti a me. Ad ogni dettaglio che aggiungo scavo più a fondo, e si svelano significati sino ad allora nascosti. La tela bianca infine accoglie le mie visioni come una madre, il colore, velatura su velatura, diventa una sottilissima seconda pelle, come sangue scorre sotto il fiume dei significati. Quali sono, o sono stati, i suoi modelli, e i suoi colori di riferimento? Tutta la corrente simbolista mi ha sempre affascinata. È, la forza arcaica del simbolo, che ha il potere straordinario di congiungere, e continuamente rimandare ad un altrove, e, incurante delle contraddizioni, giocare sull'ambivalenza? Ma si sono espressi per simboli anche artisti cronologicamente lontani dal simbolismo storicizzato, da Piero della Francesca a Frida Calo. E poi i bianchi vibranti di Wistler, il silenzio buio delle scene di Boclin, i tratti malinconici delle donne pre-Raffaellite, la deliziosa cura per i dettagli tanto cara ai fiamminghi. Com'è nata la sua passione per l'arte? Cosa ha significato e cosa significa? Ho questa immagine di me, una delle prime impresse nella mia memoria, di questa bimba dalle manine paffute coi pastelli, in mano, e il foglio bianco davanti che, alla domanda ha diritto. Cosa vuoi fare da grande? Rispondeva con fierezza. Disegnare.